la vittoria è giusto secondo me essere felice anche se vinci contro magari l'ultima in classifica tre punti sono tre punti sia che guadagni con la prima in classifica che con l'ultima però io sono anche dell'idea che non bisogna essere né troppo euforici quando si vince né troppo negativi quando si perde perché comunque vai sul campo ci sono anche gli avversari devi tenere conto di molti fattori quindi secondo me bisogna cercare di restare equilibrati mentalmente perché se essere troppo euforici dopo una vittoria diciamo che non fa bene perché magari ti siedi un attimo essere troppo negativi dopo una sconfitta è stessa cosa perché magari ti autoflagelli per niente loro comunque sono una squadra molto forte e fastidiosa ma secondo me se la prepariamo come sappiamo fare riusciremo a fare bene e a metterli in difficoltà e ovviamente a puntare alla vittoria come facciamo sempre quando scendiamo in campo ovviamente studieremo col mister gli avversari e le caratteristiche del reparto offensivo ma di tutta la squadra e cercheremo di di metterli in difficoltà con quelli che sono però i nostri concetti di gioco secondo me è così facendo seguendo le indicazioni del mister e applicandoci al massimo in campo riusciremo a mettere in difficoltà anche una squadra che in classifica si trova ben messa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti